La prima prova di qualificazione esiterà il 1 marzo a Torino, la seconda il 29 marzo in provincia di Teramo e la terza ed ultima il 10 maggio al Parco Laghi e i Pontini. I primi 40 classificati di ogni qualificazione si contenderanno nella finale di due giorni del 17-18 ottobre al Parco Laghi in Emilia Romagna il prestigioso trofeo che trovate alla mia sinistra e allora vi aspettiamo numerosi a questa grande competizione per aggiudicarvi le prestigiose canne de strada di Gamakatsu e i fantastici tre soggiorni di Peschi in Svezia offerti dal tour operator peschinsvezia.it per sognare i grandi luci svedesi.